L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo nella esercita, nelle forme e nei limiti della Costituzione. Articolo 11. L'Italia ripudia la terra. Articolo 34. La scuola è aperta a tutti. Articolo 27. L'imputato non è colpevole fino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso d'umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. Articolo 104. La magistratura costituisce un ordine a vuoto modo e indipendente da ogni altro potere. Articolo 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Confezioni religiose sono ugualmente libere davanti a la legge. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto. Come strumento di offenza alla libertà degli altri popoli e come messo di risoluzione delle controverse internazionali. La bandiera della Repubblica è il colore italiano. Verde, bianco, rosso, altre bande eletticali e giornali dimensioni.